uso il sensore cardiaco siamo a 15 secondi 10 secondi e via il nemico sta difendendo il corpo proteggete il corpo attrappando il corpo testo attrappando 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 Grazie a tutti Dovete trovare il contenitore di biorischio Ottimo lavoro, contenitore di biorischio localizzato 10 secondi all'inserimento 5 secondi Contenitore di biorischio individuato, raggiungetelo Su un drone Cambio caricatore All'allarga Grone pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Un operatore alleato rimasto Un difensore rimasto Un operatore 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 rimasto Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Muro fortificato A secco Mancano 10 secondi Mancano 5 secondi Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi Nuovo caricatore Nuovo caricatore Un operatore rimasto 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 Sensore cardiaco attivato. Sensore attivato. Sensore cardiaco 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 attivato. Occhio, è innescata. Occhio, è innescata. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. Iscriviti al nostro canale.